Continuiamo a percorrere chilometri per il gusto del nostro piacere oggi parliamo di auto auto da corsa da formula 1 vi portiamo a Rizzone a conoscere la Dallara Academy. Allora dopo 2 ore e mezza di viaggio 3 ore di viaggio senza aria condizionata siamo arrivati in quel del Parmense a fare un Grazie a tutti la prima macchina che ha progettato l'ingegner Dallara l'ingegner Dallara ha deciso di concentrarci su aerodinamica, peso e struttura di una macchina e lasciare il motore ad altre aziende. Tutte le vetture che vedremo sono fatte da noi dal punto di vista dello studio del telaio delle componenti fredde e non del motore non è volata e non è volata sicuramente questa è una storia particolare, ha avuto un percorso di tanti sacrifici non solo sportivi ma anche economici per poter arrivare a avvitare questa vettura ottimo bene 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 male male non fate quello che faccio io bene direi che io mi sono guadagnato una pietina con il prosciutto bene ben Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.